Una pilotina da lavoro è affondata in canale salso presso la darsena di Mestre, dove si trovava all'ormeggio per motivi ancora in corso di accertamento. Per metterla in sicurezza sono quindi intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, ieri mattina verso le 10. Gli uomini hanno prima provveduto a sollevarla dal fondale con l'aiuto di palloni, provvedendo poi a imbragarla e a sollevarla con l'autogru in dotazione al reparto dei vigili del fuoco. L'imbarcazione, di una lunghezza di circa 6 metri e con un peso complessivo oltre i venti quintali, è stata quindi svuotata dall'acqua per poi essere trainata in un cantiere nautico per le riparazioni. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono terminate alle 14. L'agenzia Venice Water Link in collaborazione con la Raffaello Navigazione in aprile e maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito veniswaterlink.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!